La Chiesa, fin dai primi giorni della sua esistenza, ha sempre riflettuto sul mistero di Dio rivelandosi in Cristo Gesù. Dio ha voluto condividere la sua vita con gli uomini e fin dalla creazione li ha introdotti nella comunione trinitaria. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati nel suo cospetto e nella carità, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà. È un'espressione bellissima che dovrebbe essere scolpita nel nostro cuore e nella nostra mente, non tanto sulla parete della nostra casa. Tutti gli uomini in mode e situazioni diverse ricevono benefici dalla redenzione e sono chiamati a partecipare alla gloria e alla gioia eterna, ma in modo particolare sono i cristiani che sono chiamati a realizzare il progetto di Dio già su questa terra con l'essere uomini nuovi, santi e santificatori. I cristiani non sono chiamati ad essere degli eroi con opere straordinarie, ma uomini, tra gli uomini sono chiamati a vivere nella giustizia e nella carità, le realtà terrene della famiglia, della vita culturale, sociale e politica. Essi, come tutti gli altri compagni di viaggio terreno, vanno incontro alle sofferenze, alle debolezze, agli sbagli, alle gioie, alle difficoltà di tutti i giorni. Hanno un dialogo aperto con tutti e, mediante i doni e dello spirito, attuano un dialogo intimo con Dio nella fede, nella speranza e nella carità. Tale chiamata si estenda a tutti gli uomini, anche non credenti. Tutti gli uomini, infatti, avvertono l'imperativo morale che risuona nella coscienza, fa il bene ed evita il male. I non credenti, se ascoltano la chiamata di Dio, accolgono la grazia di Cristo anche senza saperlo, perché la vocazione ultima dell'uomo, di tutti gli uomini, è effettivamente una sola, quella divina. Siamo chiamati a prendere parte alla vita di Dio. Non solo dobbiamo ringraziare, ma prendere atto della dignità cui siamo chiamati. Quando i primi cristiani furono esclusi dal Tempio di Gerusalemme, non esitavano a dichiarare che la definitiva sede della presenza di Dio è il corpo di Cristo e dei Suoi fedeli. Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Siamo chiamati ad avere i rapporti non solo con gli uomini e con tutta la creazione, ma con lo stesso creatore che, come dice il Vangelo, abita in noi. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho dato a loro, perché siano come noi una cosa sola. Padre Pio, ristò insignito dall'estimate di Cristo risorto per indicare al mondo distratto e materialista il mistero della risurrezione. Ogni segno che si adatta con acuti dolori e gli rendevano penosi i movimenti ad un suo figlio spirituale che gli chiedeva se le stimate gli provocassero sofferenze, rispose, certo, forse Gesù me le ha dato per decorazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.